Calano i reati alla Spezia in provincia, il dato emerso questa mattina nel corso di Legalità Ci Piace, durante la presentazione del report stilato per macro aree da Confcommercio Nazionale. Oltre al focus dell'associazione di categoria, il prefetto Antonio Lucio Garuffi ha messo in evidenza anche altri dati legati proprio alla Spezia. Sul territorio provinciale e comunale negli ultimi due anni c'è stato un calo sensibile dei reati. Dal 2017 al 2018 sono diminuiti dell'11,8%, a livello provinciale del 10,5% nel territorio comunale. Tra gli indicatori in discesa, i furti calati del 13,7%, le rapine passate dalle oltre 70 del 2017 alle 59 del 2018, con un calo che si attesta al 15%. Il trend sembra essere confermato anche per quanto riguarda il 2019, i dati non sono ancora definitivi, ma per il momento il calo registrato sul territorio è pari al 10,2%. In materia di abusivismo commerciale, la Polizia Municipale ha messo in evidenza i dati non ancora definitivi delle operazioni della squadra amministrativa. Nell'ultimo anno sono stati fatti più di 165 controlli, soprattutto per quanto riguarda i mercati di Via Garibaldi, Piazza Cavor e Via Prosperi. In passato sono stati portati a termine 170 sequestri di merce contraffatta. Negli ultimi due anni sono calati a 59, dato che segna un calo del reato di abusivismo commerciale. Il 70% dei sequestri è avvenuto nell'ambito dei mercati, il restante 30% è stato effettuato in altre zone della città e ha portato anche ad otto ordini di allontanamento che fanno da apripista al daspo urbano. In quest'ambito la locale ha lavorato fianco a fianco con la Guardia di Finanza e le altre forze dell'ordine.